Buongiorno, buongiorno oggi è sabato 5 dicembre, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno, Massimo Moro in regia, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che sono in edicola, l'alto adige, punti nascita, l'alt dei primari, appello dei medici, puntare solo su Bolzano e Trento. La tragedia che si è consumata in montagna, Armin Holzer precipita col parapendio e muore, addio all'uomo che camminava sulle nuvole. Precari dell'azienda Servizi Sociali di Bolzano, tensione alle stelle, rissa sfiorata l'assemblea, si parla dei posti di lavoro a rischio. Frenata sulle aperture a Santo Stefano da parte della grande distribuzione, più prestiti per le famiglie e le imprese, il bilancio delle banche altoatesine. La cronaca cura del Corriere dell'alto adige, Holzer precipita e muore, era il funambolo dei record. Poi a Palti parte la rivoluzione, approvata la riforma, imprese soddisfatte, i 5 stelle dicono sono state accolte le nostre proposte. La cronaca linguatresca, la riforma sanitaria ancora una volta in apertura, si parla soprattutto di punti nascita, di servizio garantito 24 ore su 24, i forti dubbi da parte dei vertici della sanità altoatesina. E poi la tragedia, la tragedia che ha portato via la giovane vita, appena 28 anni aveva Armin Holzer precipitato con il parapendio. Chiudiamo con il quotidiano Tagest Zeitung, ancora sport e invernali, questa volta ci sono buone notizie, Marcus Eder, una vera e propria star nel mondo dei freerider. È tutto, come sempre io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.